No, non ho registrato, che pacco Planting A, e c'è un altro su A Scorpion, Scorpion, guarda Ho capito, ho capito C'è uno su A nei cespugli Guardi, occhio eh Vai Scorpion, lascia, veloce Ti guardo io tanto È sulla sinistra, Guardi, è Artemis Nada? Io sono sotto casa verde Cazzo Nice Buona Buona Eh, uno in A Last non lo so Sono dietro loro spawn io Bravo, vai piano piano È proprio lì davanti a te che accade, non so c'è A destra però Buona Ok, Last in A dovrebbe Sono in A io Qui, guarda l'hai visto? Chiapalo Chiapalo Lì l'hai visto? Bella Pensavo che ne abbia passato dietro il muro invece no Stavo ancora dietro Eh io non c'ho senso al cazzo, non lo potevo vedere Gordi mettiti quella di default Hai sbloccato niente scusa Ah è vero sembrava dietro Hai visto? Metti quella di default No no ma non è direttamente Ma c'è casino stesso Sì 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 Ah allora è np Luke, chi l'hai fatto? Cazzo Luke Ma lo stai guardando lunga B scusami No, non lo stai guardando No, non lo stavo guardando Ma lo stavo guardando, ora si Eh, lo devi guardare all'inizio lunga B, non ora Sì 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 Non è np Non hai ngh Nostro spawn Ssss Sopra tetto verde io Sì sì no 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 Glint Ok Eccolo lo vedi? L'ho vista dall'ombra Un altro, un altro spawn, non sto Ok non ci penso io, aspetta E' sua cosa ne so basta su sa dove la bomba no sicuro si si andata sinistra bella è rimasto fermo è rimasto fermo è rimasto fermo polacco perso le skills riscaricale vado 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 mid nessuno domanda lungo b sono io sono sotto verde io questo è tutto verde eh oh cazzo non l'ho visto sta in b camperato uno su a sdraiato e uno lungo a yuk ti arriva buona attenta yuk artemis è su a sdraiato nel cespuglio yuk è tanto lungo b sempre su cespuglio lì a sinistra dove l'ha fatto prima vai 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 yuk vai yuk hai visto vai yuk corri assimila flash di correre buona buona a rispondere di progetti lascia lascia la foto tanto da quando sono da quando sono morto sono su di te pensi zero no adesso io spazio io ragazzi lascia la foto lascia la foto m.1 un m.1 un m40 si vabbè tanto dopo vedrà la registrazione di scorpion quindi si scotta io ho detto verde un m40 ma l' m40 ce la gordi ma infatti capisci il cazzo l'uco vitt no era sopra si casamattoni l'ho fatto l'ho fatto sono io casamattoni eh allora l'ho fatto buona cazzo uh madonna che culo Buona, 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 buona Buona, buona, buona Stupenda Oh, che strafe Bella, bellissima kill Non avrei mai capito che sono io con il check Chi l'ho sparato prima Stupido, vabbè, vado da me Vado da me, Dio Buona 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 Chiamalo Addio l'ha riscritto L'ha riscritto Ma lascialo L'ha riscritto Sua Guarda Sottomaria Flesh Sottomaria Non l'ho preso Nade su A, non c'era Nade Si, si, si E lascialo perdere Io sono gelati Io sono gelati Io sono gelati Io sono gelati Vabbè, vado in B, dai Sotto la bomba Ancora lì Ancora lì Dietro A Ti ha bannato dal 7 Ti resta l'ora Non ti resta l'ora, ti ha bannato Sì, si Eh, però, ragazzo Vabbè, io guardo bene, guardi Buona Buona, buona, buona che vuol dire come con i ladri scusa? texture guardi texture? stavo scrivendo a rioca ah ho capito stesso vale con i cheat ma ha preso le skill si riscarica le? già guarda lungo A no il direct impact non è morto di che cosa? di nada impossibile eh direct impact di nada e non è morto c'hai tu Gordy che hai lasciato? si si down potevi dirlo che hai lasciato? non penso A7 ora vediamo rioca fa 1-10 è vero 0-10 0-10 attenzione ok t'ho sgammato vabbè ho sgammato me ragazzi è proprio patetico cazzo nostro spawn più o meno non lo so per arrivare da lungo qui ah sei tu vai da clint si 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 ma perchè se l'ho già sparata pensavo fossi te perchè se l'ho già sparata stessa classe non ha capito un cazzo ha scritto non lo so perchè si è uscito assurre bro ecco perchè non gioco più su Mv2 ecco perchè non gioco più su Mv2 ehm si è vabbè dai Gordy non farci perdere il round è sopra di te Gordy non farci perdere se vogliamo l'ace eccolo eccolo va dai vado a prendere l'arma scala dai 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 eccolo da sinistra te l'ho chiamato no ho contenuto no no allakbar no ho questo muro adesso vado di contenuto muro cattivo guardi ma si guardi tre tre parole sono gli ng che poi lì dentro non c'è nessuno non capito la stan mentre usciva la bb lb ok ok eh piantina vai vai si facciamo gli sbaroni facciamo gli sbaroni e li prendono pure sopra il bb site così a random cazzo mi ha sparato si lo sparato non lo ascolta io sto qui longa dissi no clint no no lo voglio andare a prendere sì dove chiamalo spawn no random random lo vorrei prendere io mi sa di no mi sa che arriva prima lui da voi anche se non credo ce la farà defusare però vediamo mario marioano vero si si mario Guarda Gordy che ha sparato G wellplay è andato a giocare su LOL, GG, stato buono E' in botta Oh, complimenti a Kata, ha proprio azzeccato lo score LOL che fail E' già finito, vero? Stai muorendo tutti Ma è già finito, vero? Sì Sì Sì